Roma è storia, Roma è da visitarla, è da vederla, ma soprattutto è da gustarla, posteria proprio romana, Roma è da gustar, guarda cambiente, ma dove li trovate li posti così, dove li trovate? Eccoci, devi dire niente, devi mangiare il basso, ma bravo, questo è una cosa c'è, un cucchiaio da romano, no no, io mangiare, schizzo a tutto, io faccio una straccia, c'è chi pensa vicino a un massacro, matricianus al flambe, io mi pensavo una certa di come questo arriva con questa forma di parmigiano, invece no, ci ha portato una bella, bella porzione di pasta, ma di bucatino, alla matriciana, è proprio buona regà, assaggiatore, vi porta solo un do se magna, no bene, di più, un bacetto suglioso, non ti chiedo il segreto perché sicuramente, non ce lo voglio, spiegaci a noi, io bene o male lo so, ma allora chi non lo sa, chi magari, beh vorrei da Roma che dice, sì, la matriciana è buona, è bella, l'ingrediente magari che non deve mancare, pecorino magliano sappina, ma un pecorino romano, la pecora che mangia l'erba nei nostri colli, dei sette colli romani, e quello è il nostro pecorino, non vi sbagliate, buona, 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 cosa fresca, ecco, il termine giusto è quello, da urlo, questi prodotti, su questa matriciana regà, sono perfetti, Roma è arte, Roma è da mangiare, è una poesia, c'è la cultura dei monumenti, c'è la cultura dei chiese, c'è la cultura dei sette re di Roma, e poi c'è quello che magna forte, magna i bus forti bus, se andiamo a vedere i gladiatori, i tu ciceroni, gli dico avete mangiato, no, va, viate in del secchio, io ho mangiato una grande, abbiamo trovato un ambiente bello, abbiamo trovato un ambiente familiare, abbiamo trovato un ambiente dove proprio te riporta nell'osseria della porta, gente che ride, gente che scherza, gente che magna, gente che rotta e scura, così deve essere, stiamo a due passi dal Colosseo, al vicolo 9, quartiere Monti, al vicolo dei serpenti, se camminiamo, city city, trovo quel bel quattello, sempre sciato, so bel vicoletto pieno di tramontanella, questa è una zucchina, diciamo, è trifolata, quindi con un po' d'aglio e peperoncino, ok, e con il ciauscolo, quindi origine marchigiana diviso, mentre questa è un bufala strappata a crudo, basilico, sempre su un impasto, 48 ore, quindi con un mix di soia e frumento, particolarmente idratato e digeribile, Senti, ma io non so tanto di porchetta, fratello, io so più la vecchia maniera, L'impasto, regà, è da paura, cosa fondamentale per una buona pizza, croccantezza e digeribilità, quello non c'è il problema, che tanto ti vedi se digerimo, pure si eserci se digerimo, però magari perché è più deboluscio, magari questa si può digerire bella, tranquilla, croccante, Ingredienti di qualità, regà, freschi, so buoni, sto ciauscolo, è da paura, e intanto muovo dico un altro pezzo, perché io so goloso, so proprio no goloso, di più, effetto mozzarella, regà, guarda che robetta, questa ci si gira intorno, ci si annota, vedi, così con la mozzarella ci fermiamo la zucchina di carciacuscolo, e niente, e via, questi cent'anni si sentono tutti, regà, lo sai che c'è, la prima mi ha sfiziato, leggermente, perché io vado leggero, regà, quindi lo sapete, io pure questa, mo, gli diamo una, come si dice, una ruspata, ma che dici, sarà troppo greve, così, va, regà, non è per i deboli del cuore, sta cosa, regà, io ve lo dico, eh, se avete problemi, la stavete schifo, eh, ti ho messo come sotticino, guarda che roba, regà, qua dentro c'è sta la bufala, paghino, basilico, grandezza della pizza, giusta ragazzi, l'altezza per me è quella che mi piace parecchio, soffice, croccante, digeribile, manda le ciance, apri le panze, guarda, hai visto quel signore, ho fatto un pestetto, via via, sono a trastevere, e si chiama dar poeta, ma io fa una bella magnata seria, una bella magnata, addocca, come una volta, non è un posto per magri, e io posso entrare, c'ho il pants pass, questa, che vedete qua, è l'osteria, regà, così, se magna, come una volta, piatti grevi, abbondanti, fatti proprio col cuore, col cuore in mano, vedi che roba, che è, c'è un profumo, regà, si sente proprio i profumi come una volta, proprio dei qui di sugli, tutta casa si riempiva, adesso pomodoro che cuoceva, ora posso mangiare come parlo, mangiare come mangio, e soprattutto, regà, sentirmi proprio a casa, perché questa è proprio una cucina che facevano le nonne nostre, quindi, bella, bella, ruspante, ruvida, bella, greve, come ci piace a noi, regà, ne che è buona, una cosa di più, cioè, romano verace, il sugo è fresco, è buono, e c'è stata la salsiccia, c'è stata la spuntatura, la spuntatura, sta bella fa, è un'arte, neanche l'ho toccata, e l'effetto è questo, se stacca da sola dall'osso, quando la spuntatura si stacca da sola dall'osso, vuol dire che la cottura è perfetta, ma soprattutto, che pure la carne è buona, regà, cosa che vi dico, mmm, ammazza che sto buone, è la prova, spuntatura eccellente proprio, regà, così si mangiano, io intanto mi sto ampa da casa, a far guerra col sugo, eh, noi mangiamo forte, sempre nei carticiati, non è una cosa durissima, questo è un posto che ce lo devi da sapere, Marcolino Palevino, cucina tipica romana, mi ricordo che ho mangiato bene, e ora mi sta benissimo, immagina che io stavo a mangiare, però non mi ricordo, insieme a voi, ci mangiamo sta sussita e ciccia, è un'osteria, e anche noteca, a me questo stile mi piace da morire, bello, 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 andiamo al lato pratico, però perché una certa, il pupo richiede da mangiare, oh, ammazza quanto sono carini, no, regà, guarda che spettacolo, oggi mangerai, carne di fassona piemontese, all'interno, condimento semplice per alcuni, da questa parte invece abbiamo, un condimento particolare nella carne, che è capperi carciofini, salsa cirascia e olive taggiasche, ci andiamo d'accordo con questi cipolli, ci andiamo d'accordo, andiamo d'accordo, sei mischia tutto, quindi andiamo d'accordissimo, poi qui invece abbiamo, un condimento semplice, quindi olio sale, e sopra però abbiamo, ciattone di mango, con pancetta croccante, laziale, una marmellata di cipolle, buona, spagnola, dice perché spagnola, perché secondo me è la più buona che esiste, e un croccante di cipolla, abbiamo salsa terriani, note più dolcettine, e o nei mostard, e qui invece andiamo in Calabria, quindi piccantissimo, anduna, crema di broccolo, e sempre la pancetta di verdura, quindi questa è, passona piemontese, con tutti i vari condimenti, giusto? guarda che famono, perché tanto ci non faccio un macello, in eleganza sciatata, si mangia forte, ciao belli, è da paura, ti giuro, guarda, se sentono tutti i sapori, se ti devo ripetere, che tanto non mi ricordo, c'è la memoria, dubbito, è tutto bilanciato perfetto, come ci diceva lei, d'antigne, con la salsa di soia, anche senza, senza antigne, nudo e crudo, se sente sto, ciattone di mango, ma la cosa bellissima, è la croccantezza, che vi rilascia sta pancetta, allora, crema del broccolo, che si sposa benissimo, con la piccantezza dopo, la senti, dell'anduja, ognuno ha una reazione diversa in bocca, lo dovete venire a provare capo, déjà vu a 100 celle, panino gourmet, se mangiamo, abbiamo messo anche qualche salsino, abbiamo sena per mirtillo, maionese homemade, salsa moita e salsa chipotle, chipotle, salsa piccante, perfetto, e il panino, tutto fatto in caso, assaggiamo questo panino, gli diamo due belli morsi, proprio belli, ignoranti, e poi vi dico com'è, ma questa per mantenela, sono anni di sacrificio, vabbè lì, allora regà, io tolgo la bandiera, e questo è il panino, bello, rozzo, ignorante, gourmet, mamma mia, vi posso dire una cosa regà, sono da paura a queste cose, sono proprio buoni, 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 c'è questa salsetta sartufata, giusta regà, delicata, che ci sta bene, la carne, bella cotta così, un po' quasi sanguigna, così a non ci piace, si sente tutto il bacon, si sente la carne, si sentono i funghi, si sente tutto, quindi vuol dire, che il panino gourmet è nato, non callo, ma vuoi tennavo callo io, guarda come vado callo, guarda come ci scola, ti ha, oh, l'ho visto? ti ha, la roba è fresca, il pane è morbidissimo, è buonissimo, si mangia forte, è sempre bello elegante, vedi, gourmet, più elegante di me, questi regà, i nuggets, li potete trovare, pure dal tabaccaro tra un po', però, la panatura di tarallo, regà, sbriciolato, è davvero, a parte che, mandano giorno d'ora appena aperto, fantastico, la panatura con me, bella, chiara, dorata, la prova dell'olio, è top assoluta, ma la croccantezza, specialmente, voglio fare una sozzata, bella, bella che mi piace, perché voi sapete, che manate le sarse, quindi, io voglio provare con questa sarsa di mirtillo, regà, non lo so, perché non me lo chiedete, ma, voglio fare un tasto, un tasto, con il dittino, con un tasto, regà, non l'avevo mai straggiata, la prima volta, si sposa a pennello, e matrimonio fu, un gourmet bello ignorante, quindi ci piace, prodotti freschi, pane fresco, carne fresca, salse fatte in casa, questi chitaralli, a regà, montesacro, metro, eccolo qua, . 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